Tu, sei tu che per lo sport hai detto addio a tutte le domeniche pomeriggio e non solo. Tu che sai quanto possono essere lunghi 90 minuti. Tu che conosci il significato della parola sacrificio, ma non quello della parola fuori gioco. Questo è amore. È per gli eroi come te che torna la superrottamazione Fiat. Panda con 5 porte, clima e radio. Tua con finanziamento a 8000 euro oltre oneri finanziari. Grazie.